Maggiori controlli e informazione a tutela degli anziani in modo da prevenire truffe verso la popolazione più debole. È l'appello lanciato ancora una volta da Confartigianato Arezzo che da anni porta avanti una campagna di sensibilizzazione alle truffe dal nome più sicuri insieme in collaborazione con le forze dell'ordine. Sono molti gli episodi registrati di truffe verso persone in casa sole o con difficoltà economiche. Ultima in ordine di tempo in provincia quella che riguarda una signora di Montevarchi che con una telefonata ingannevole è stata adescata per consegnare soldi e gioielli facendogli credere che il fratello era in tribunale per un incidente stradale. Sono infatti i sentimenti una delle leve più utilizzate dai truffatori, persone senza scrupoli che non guardano in faccia a nessuno. Non dobbiamo mai abbassare la guardia e mai smettere di dare agli anziani gli strumenti per difendersi dalle truffe, così ha detto Angelo Galletti, presidente ANAP di Confartigianato Arezzo. È sempre più elevato il numero di anziani che vivono da soli sulla nostra provincia e sono proprio loro, continua ancora Galletti, ad entrare nel mirino dei truffatori. Viene fatta leva sui sentimenti e la fragilità delle persone anziane che si trovano senza strumenti per poter distinguere la verità da una truffa. È per questo che attraverso anche la rete di ANAP Stiamo cercando, conclude Galletti, di informare quante più persone possibile sulle nuove modalità messe in campo dai truffatori. Non mancano poi, sempre per gli anziani, le truffe riguardanti internet. Anche le persone più in là con l'età, infatti, utilizzano smartphone e la rete. La loro pochissima esperienza però li rende prede semplici da adescare, con mailing annevoli che, con la tecnica dello spoofing o del phishing, infettano i dispositivi, dando la possibilità ai malintenzionati di entrare all'interno di internet banking e dati personali. L'appello di Confartigianato alla massima informazione è rivolto alle forze dell'ordine e agli anziani stessi, per non farli trovare sorpresi da situazioni che sono purtroppo sempre più in aumento.